Musica Uscita bagnata per gli arrestati che questa notte sono stati coinvolti dal blitz portato a termine dai carabinieri del reparto operativo di Nocearia Inferiore. Nella rete degli inquirenti sono finite 19 persone. Custodia cautelare in carcere per Giuseppe Guida, Pasquale Alfano, Sergio Gambardella, Antonio Granata, Renato Belluno, Raffaele Alfano e Domenico Alfano, Mario Rossi, Angelo Cozzolino, Giuseppe Giudice, Salvatore Schiavone, Roberto Margas, Rinaldo Marsico e Mario Mauri. Ai domiciliari invece Emilio Sorrentino, Michele Alfano e Aniello Anna Rumba. Il gruppo più corposo è quello originario di Angri, ben sette arrestati. L'indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Nocearia Inferiore, agli ordini del Maggiore Matteo Gabelloni e coordinata dal sostituto procuratore nocerino Roberto Lenza, è partita lo scorso novembre con l'arresto in flagranza di Renato Belluno e Giuseppe Guida, fermati a Rocca Piemonte dopo aver rubato una utilitaria. In totale sono state denunciate 32 persone e recuperati e restituiti a legittimi proprietari 14 veicoli. Un'attività che, secondo il procuratore Gianfranco Izzo, condurrà ad una sentenza esemplare. Ne è sortita una definizione complessiva, precisa, indiscutibile, incomiabile sotto tutti gli aspetti, di tal che si può dire che io sottoscriverei una sentenza del genere. Dall'indagine è emerso che gli arrestati rubavano le macchine anche su richiesta. La zona di riciclaggio e di reinserimento nel mercato durante la nostra indagine è emersa come la provincia napoletana a ridosso dell'agronocerino sarnese. Per quanto riguarda la tipologia di veicolo preferito, normalmente si andavano sulle utilitarie, sulle city car anche di ultima generazione. La cosa che ci ha colpito in maniera particolare è la sussistenza di vere e proprie ordinazioni. Venivano ordinate i veicoli di maggiore richiesta sul mercato. Addirittura abbiamo registrato una richiesta di un particolare veicolo con un particolare colore e con gli interni in pelle e l'organizzazione era in grado di ricercarla sul territorio. Un reato che spesso resta impunito, diceva il procuratore, invece questa volta si è messo a segno un buon risultato. In genere si tratta di fatti che vengono analizzati in maniera isolata. Questa volta abbiamo avuto l'intuizione di collegare immediatamente un episodio verificatosi il 14 novembre del 2013 ad altri episodi che si erano verificati anche in tempi passati e un passato anche abbastanza lontano.